e quest'anno lotterò con gli uomini credenti per andare a Tokyo. I sogni spesso si realizzano, il primo, diventare papà della piccola Viola, l'altro, giocare un'Olimpia di Simone Anzani, centrale federazionale, passione per la maglia azzurra. L'azzurra è il sogno di ogni bambino, io penso che io quando ero piccolo e giocavo a calcio era il sogno di giocare a nazionali italiani, calcio. La vita ti porta a nuovi scenari e ho vestito la maglia azzurra di pallavolo. Ai giochi contro le grandi nazionali, come dovrà essere l'atteggiamento dell'Italia? Bisogna giocare ogni partita come se fosse una finale, ogni partita come se fosse l'ultima perché prima o poi le più forti le devi incontrare, prima o poi le devi anche provare a battere. Campioni tutti insieme per un obiettivo, ma qual è il seguito della nazionale del CT? Gian Lorenzo Paggini? La coesione del gruppo è la base, secondo me è il motore degli sport di squadra e di un team. Noi siamo come le formichine, dobbiamo lavorare per arrivare agli obiettivi, costruire dei castelli, dei grandi castelli, perché abbiamo delle buone possibilità però dobbiamo essere bravi e mettere giù la testa e macinare perché penso che sia l'unica via per raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati.